Creare una nuova cultura della sicurezza per ridurre e prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali che provocano in media 6.000 morti al giorno. La giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra oggi in tutto il mondo, assume in questi giorni di pandemia un grande valore simbolico. Quest'anno purtroppo il tema della pandemia ha preso la scena anche in questa giornata mondiale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma questo non ci deve far dimenticare che la nuova condizione di pericolo non ha annullato il numero degli altri infortuni e malattie che caratterizzano il mondo del lavoro. Penso soprattutto ai lavoratori della filiera agroalimentare che hanno continuato a produrre in queste settimane anche nel nostro Molise, ma anche alle imprese di servizi e agli operatori dei servizi pubblici che si sono trovati ad affrontare un nuovo modo di lavorare, utilizzando a volte dispositivi di protezione individuale non sempre adeguati. Sui luoghi di lavoro purtroppo nel nostro paese si continua a morire ed è di queste ultime ore una stima diffusa dall'Ine, il che vede proprio il Covid-19 tra le principali cause di decessi professionali nei mesi di marzo ed aprile. Stando ai numeri in Italia nel primo trimestre del 2020 abbiamo assistito ad un'impennata di denunce di infortunio con il Molise che fortunatamente è in controtendenza con il dato nazionale, registra invece una lieve flessione. Cifre che per quanto riguarda la nostra regione sono comunque alte se rapportate al numero di abitanti. Dall'inizio dell'anno sono stati 371 in totale i casi di infortuni denunciati in regione, di cui 3 mortali. 275 hanno riguardato la provincia di Campobasso e 96 quelle a Disernia. Alta l'età media degli infortunati che in Molise si attesta in misura percentuale maggiore tra i 55 e i 59 anni. Mai come in questo momento storico il lavoro è al centro dell'attenzione di tutti, ma è fondamentale che i governi, i datori di lavoro e i lavoratori all'interno di un quadro condiviso di diritti, responsabilità e doveri trovino un terreno comune su cui porre le premesse di una vera e propria cultura della sicurezza. Creare luoghi di lavoro sani e sicuri deve essere infatti una priorità, qualcosa di strutturale e non solo legato all'emergenza coronavirus.